Centro Teri, in via Gino Palumbo numero 19, a Cava dei Tirreni. Oggi, martedì 10 settembre, gli studenti di Cava dei Tirreni sono finalmente tornati sui banchi di scuola. La città è stata interessata da forti piogge che hanno reso necessario il rinvio per garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Questa mattina, invece, la situazione meteorologica è migliorata permettendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche. Gli istituti hanno riaperto le loro porte e le aule si sono nuovamente riempite di studenti, tra l'emozione e la voglia di cominciare un nuovo anno scolastico. Dunque, per gli studenti di Cava dei Tirreni, oggi è stata una giornata speciale. Finalmente, è suonata la prima campanella e l'anno scolastico è ufficialmente iniziato. Anche il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, ha pubblicato sui social un augurio agli studenti. Cari ragazzi, si riparte con un nuovo anno scolastico ed è sempre un momento di grande emozione, soprattutto per i genitori che accompagnano per la prima volta i loro figli all'asilo e li introducono nell'entusiasmante mondo della scuola. E' questo il sentimento che auspico per tutti gli studenti, l'entusiasmo, affrontare questo anno scolastico con la consapevolezza di intraprendere un percorso formativo ed un bagaglio di esperienze che è principalmente di preparazione alla vita. Ringrazio tutti i dirigenti, i docenti, il personale scolastico che, come sempre, con passione, impegno, preparazione e competenza svolgono il loro ruolo, non facile, nel costruire lo sviluppo armonico degli studenti ed un buon apprendimento sereno. Buon anno scolastico a tutti!